Ciao ragazzi, il Prophecy anche nella gamma 18-19 di Drake è il top di gamma, anche quest'anno. È una scarpa che è stata ulteriormente migliorata, ulteriormente strutturata rispetto alle versioni precedenti per un rider di livello diciamo abbastanza alto, sia all-mountain che freestyle. È una scarpa costruita con il famosissimo ormai sistema super lace di Northwave, quindi la lacciatura suddivisa in due parti, la parte del collo del piede e la parte della tibia sono regolabili separatamente per ottenere un feeling e una personalizzazione della calzata veramente ottimi. La scarpetta interna è la TF3, super termocustomizzabile che si adatta in un attimo al vostro piede rendendo la scarpa estremamente comoda, molto calda al suo interno e questa scarpa vede alcune diciamo protezioni aggiuntive, aggiunte nell'ultima stagione, sia sulla punta che sul tallone per evitare appunto l'usura precoce dovuta al contatto con gli attacchi. La suola è una double crossbow come i suoi fratellini, insomma come i suoi modelli di pari gamma. È una suola estremamente ammortizzante, molto confortevole, quindi capace di isolare vibrazioni, atterraggi e urti e quant'altro per un riding molto più morbido e molto più comodo. Ha delle aggiunte in Vibram, la famosissima casa di produzione di gomme, insomma di suole in gomma, per avere un grip aggiuntivo. Quindi anche diciamo se utilizzate questo boot per il freeride e dovete fare dei piccoli tratti in camminata, questa suola avrà un grip che non vi deluderà assolutamente anche su qualche pezzo un po' più congelato, un po' più duro. Il comfort, come dicevamo, è ottimo, il sostegno è veramente alto, quindi è una scarpa precisa per chi sa quello che sta facendo e necessita di uno scarpone, un'attrezzatura per spingersi sempre più in là. Dicevamo anche freestyle per appunto le strutture un pochino più grosse, più impegnative, in quanto il sostegno, l'assorbimento dell'urto e la precisione sono apprezzatissime dai freestyler che cercano qualcosina di più. Se avete qualche curiosità scrivete pure qua sotto sui social o per email, rispondiamo molto volentieri. A presto, boom!